Il treno regionale, di Trenitalia, delle ore 5.03, per Genova Brignole, è in partenza dal binario 3. Ferma Russi, Bagnacavallo, Lugo, Sularolo, Castel Bolognese, Imola, Castel San Pietro Terme, San Lazzar di Savena, Bologna Centrale, Castelfranco Emilia, Modena, Rubiera, Reggio Emilia, Parma, Fidenza, Fiorenzuola, Piacenza, San Nicolò, Castel San Giovanni, Stradella, Voghera, Tortona, Arquata Scrivia, Isola del Cantone, Roncoscrivia, Busalla, Genova Piazza Principe. Il treno regionale, di Trenitalia Tiper, delle ore 5.45, per Castel Bolognese, è in partenza dal binario 3.00. Ferma in tutte le stazioni. Il treno Frecciabianca, 88.51, di Trenitalia, delle ore 6.15, per Roma Termini, è in partenza dal binario 1. Ferma a Rimini, Riccione, Pesaro, Falconara Marittima, Iesi, Fabriano, Foligno, Spoleto, Terni, Roma Tiburtina. Il treno regionale veloce, di Trenitalia Tiper, proveniente da Rimini, è diretto a Milano Centrale, delle ore 6.27, è in arrivo al binario 2. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma a Godo, Russi, Bagnacavallo, Lugo, Barbiano, Solarolo, Castel Bolognese, Imola, Bologna Centrale, Anzola, Samoggia, Castelfranco Emilia, Modena, Rubiera, Reggio Emilia, Santilario, Parma, Fidenza, Fiorenzuola, Piacenza, Casal Pusterlengo, Lodi, Milano Rogoredo, Milano Lambrate. Il treno regionale, di Trenitalia Tiper, delle ore 6.28, per Pesaro, è in partenza dal binario 3. Ferma in tutte le stazioni. Il treno regionale, di Trenitalia Tiper, delle ore 7.33, proveniente da Ferrara, è in arrivo al binario 3. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Il treno regionale, di Trenitalia Tiper, proveniente da Rimini, è diretto a Bologna Centrale, delle ore 7.55, è in arrivo al binario 2. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma a Lugo. Il treno regionale, di Trenitalia Tiper, delle ore 8.24, proveniente da Faenza, è in arrivo al binario 4. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Il treno regionale, di Trenitalia Tiper, proveniente da Suzzara, è diretto a Rimini, delle ore 9.47, è in arrivo al binario 3. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma a Classe, Lido di Classe Lido di Savio, Cervia Milano Marittima, Cesenatico, Bellaria, Igea Marina. Il treno regionale veloce, di Trenitalia Tiper, delle ore 10.45, per Bologna Centrale, è in partenza dal binario 1 Nord. Ferma a Russi, Bagnacavallo, Lugo, Sularolo, Castel Bolognese, Imola. Il treno regionale, di Trenitalia Tiper, delle ore 11.45, per Faenza, è in partenza dal binario 2 Nord. Ferma in tutte le stazioni. Il treno regionale, di Trenitalia Tiper, delle ore 13.12, proveniente da Lugo, è in arrivo al binario 1. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Il treno regionale, di Trenitalia Tiper, proveniente da Rimini, è diretto a Suzzara, delle ore 16.16, è in arrivo al binario 3. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma a Mezzano, Alfonsine, Voltana, Lavezzola, Argenta, Porto Maggiore, Montesanto, Ferrara, Vigarano Pieve, Bondeno, Stellata Ficarolo, Felonica Po, Sermide, Magna Cavallo, Poggio Rusco, Schivenoglia, Quistello, San Benedetto Po, Pegognaga. Il treno regionale veloce, di Trenitalia Tiper, delle ore 17.52, proveniente da Bologna Centrale, è in arrivo al binario 1. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Il treno regionale, di Trenitalia Tiper, delle ore 18.48, proveniente da Ferrara, è in arrivo al binario 3.00. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Il treno regionale, di Trenitalia Tiper, proveniente da Bologna Centrale, è diretto a Rimini, delle ore 21.19, è in arrivo al binario 2. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma in tutte le stazioni. Il treno Frecciabianca, 88.52, di Trenitalia, delle ore 22.05, proveniente da Roma Termini, è in arrivo al binario 1. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Il treno regionale veloce, di Trenitalia Tiper, proveniente da Milano Centrale, è diretto a Rimini, delle ore 22.19, è in arrivo al binario 2. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma in tutte le stazioni. Il treno regionale, di Trenitalia Tiper, delle ore 23.30, proveniente da Bologna Centrale, è in arrivo al binario 3. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Il treno regionale, di Trenitalia Tiper, delle ore 23.40, proveniente da Rimini, è in arrivo al binario 4. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla.